ovviamente ovviamente ho un cane si vede vero corri 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 dai che arriviamo fino a pizzenengo dai 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 e adesso valentina ferragni da te lieme secondo voi si sposa sta visionando degli abiti da sposa potrebbe essere perché insomma la relazione con Matteo Napoletano ormai è rodata lui è di famiglia mi piace molto questo look suo lo pubblico perché mi piace il discorso Gazelle con la gonna la Vitto con Chiara e questi sono gli amici di Fedez non dico niente questo è lui e poi Chiara Ferragni ormai su tutte le copertine di tutti i giornali davvero ed è l'influencer più influente del mondo ormai davvero scusate il gioco di parole vi lascio così un like ciao